La palazzina studi e corsi della scuola lievi agenti della polizia di stato di Vibo Valencia è stata intitolata da Antonio Montinaro, medaglia d'oro alla valore civile, vittima della strage di Capaci. La cerimonia di intitolazione si è svolta stamattina alla presenza del capo della polizia Franco Gabrielli e di Pina Montinaro, moglie della gente che si formò quando fu assunti in polizia proprio nella scuola di Vibo. Il messaggio contenuto in questa intitolazione ha detto Pina Montinaro è molto importante e mi riempie di orgoglio, lo stesso orgoglio che devono avere tutti i poliziotti che passano da questa scuola. Provo tanta amarezza ma anche tanta rabbia, ha aggiunto, perché chi avrebbe dovuto tutelare gli uomini dello Stato non lo fece. Per fortuna la maggior parte dello Stato è costituito da persone per bene e l'iniziativa odierna nella dimostrazione con la presenza del prefetto Gabrielli che si è dimostrato sempre vicino ai familiari delle vittime. Due condanne e quattro assoluzioni, si è concluso così il processo inabbreviato per l'ammanco milionario alla provincia di Vibo, Valencia, 1.281.595,70 euro scoperto nel 2012. Tre anni e quattro mesi a testa alla condanna per l'ex dipendente dell'ente Mirella Curro ed il marito Baldassarre Bruzzano accusati di peculato è falso. Fra l'agosto 2009 ed il novembre 2011 l'ex dipendente della provincia di Vibo, Morella Curro, avrebbe proceduto alla redazione dei titoli di spesa facendoli sottoscrivere dai dirigenti competenti e trasmettendoli poi al servizio di tesoreria dell'ente. Il marito Baldassarre Bruzzano sarebbe stato il beneficiario dei mandati di pagamento. Assolti per non aver commesso il fatto, l'ex segretario generale della provincia Ulderico Petrolo, l'ex dirigente Armanda De Sossi, Maria Menna e Valentina Macri, le ultime due nipoti della Curro. Lo scandalo dell'ammanco era stato scoperto dalla Procura della Repubblica di Vibo, Valencia, nel 2012. Sono legittimi i provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale di Catanzaro relativamente alla riorganizzazione del sistema della sosta a pagamento delle aree e strisce blu e in particolare della relativa estensione degli stalli a pagamento nella zona di San Leonardo. Lo ha sancito il Lettar della Calabria che ha rigettato il ricorso proposto dal Codacons per l'annullamento della delibera di giunta del maggio 2018 e della conseguente ordinanza del Comando di Polizia Locale che ne ha dato esecuzione. In particolare i giudici hanno evidenziato che i provvedimenti sono stati adottati a completamento di presupposte decisioni programmatiche risalenti nel tempo, oltre che sulla base di puntuali accertamenti istruttori all'esito dei quali è emersa l'esigenza di rispondere alle istanze dei residenti e in particolare di risolvere le problematiche connesse alla sosta stante il traffico determinato dagli utenti degli uffici pubblici presenti in zona. Parte anche in Calabria il servizio di Customer Care dedicato ai pendolari sui treni e nelle stazioni. Obiettivo DFS è migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono insieme a puntualità, pulizie e comfort anche più attenzioni, informazioni e sicurezza. Il nuovo servizio è stato presentato a Reggio Calabria da Roberto Musmanno, assessore alle infrastrutture della regione, Domenico Scida, direttore del trasporto regionale di Trenitalia. In Calabria l'attività vedrà impegnati 23 operatori con desk dedicato nella stazione di Reggio Calabria Centrale su 3.500 corse all'anno. Saranno 520 ferroviari a livello nazionale in prevalenza giovani e non assunti coinvolti in questo progetto innovativo che coprirà complessivamente 100.000 treni regionali all'anno e si stenderà in tutta Italia con un'attenta focalizzazione al territorio. Oggi presentiamo il nuovo servizio di assistenza del trasporto regionale, una novità assoluta perché per la prima volta facciamo un servizio di assistenza completamente dedicato al trasporto regionale. È un servizio che è stato attivato in tutte le regioni italiane e viene attivato ufficialmente anche in Calabria. È un servizio che ha come obiettivo quello di aumentare la qualità del servizio offerto ai clienti dei treni regionali attraverso un servizio di informazione, di assistenza e migliorando quindi la qualità del servizio e la sicurezza del servizio a bordo dei treni. Ci consente di avere un canale di ascolto dei clienti. Come vedete alle mie spalle in questo momento c'è un cliente che si è rivolto al desk e ci consente allo stesso tempo di essere presenti sulla rete regionale nelle principali stazioni e sui principali treni. Il servizio si esplica attraverso una serie di azioni combinate e quindi abbiamo la presenza di operatori a terra nelle stazioni, è un desk dedicato a Reggio Calabria che è appunto quello che vedete alle mie spalle. Abbiamo la presenza di operatori che fanno l'accoglienza prima di salire sul treno e poi scortano i treni a bordo treno. Contiamo di scortare circa 3.500 treni all'anno, operatori che quindi faranno un servizio di assistenza e informazione e allo stesso tempo di sicurezza a bordo dei treni. E poi cerchiamo di utilizzare i canali digitali per migliorare il contatto con il cliente. C'è un'attività in corso molto importante sia sotto il profilo infrastrutturale, ricordo in particolare gli interventi di ammodernamento sulla linea ionica, se qualcuno immagina che questi interventi possano essere completati nel giro di qualche settimana vuol dire che sottostima l'importanza e l'entità degli interventi. L'ammodernamento significa la riqualificazione di molte stazioni ma anche la sostituzione dell'armamento che vuol dire sostituire binari e traversine per far viaggiare treni più pesanti e consentire che la linea ionica possa essere adeguata come linea singolo binario nel frattempo ma che sia un grosso intervento da considerare che dal 1870 non venivano spese risorse così consistenti per l'ammodernamento. È chiaro che questo progresso terminerà nel tempo, noi abbiamo previsto la conclusione nel 2020. Lo smartphone può diventare una guida per visitare il Mab o altri luoghi di interesse storico-artistico della città. Da oggi è possibile grazie alla nuova applicazione mobile Talk Cosenza, nata dalla collaborazione senza alcun onere per il comune tra l'assessorato al turismo e marketing territoriale di Palazzo di Bruzzi e l'azienda Naos Consulting. Continua l'attività di promozione e valorizzazione della città di Cosenza in termini turistici e di marketing territoriale e in questo percorso strategico non poteva mancare anche un'app turistica il cui obiettivo è quello di fornire un ulteriore aiuto a chi arriva in città, ai tanti turisti, agli escursionisti ma anche ai cittadini stessi per avere delle informazioni dettagliate e più precise di quelle che sono le nostre bellezze, Mab in particolare ma non solo. Fra le particolarità dell'app c'è quella di avere attraverso chi si registrerà l'app un monitoraggio delle presenze turistiche in città. Questo ci aiuterà in quello che è il nostro osservatorio turistico quindi avere anche un'idea dell'andamento turistico in città, della nazionalità, di quelle che sono le preferenze. Questo diventa molto importante quando si studia in chiave strategica e soprattutto in chiave di risultati in termini di maggiori servizi ai turisti. Molto spesso uno passa davanti alla statua che può sembrare anonima però se riuscisse ad avere qualcuno che gli spiega l'importanza di quell'opera e il valore di quell'opera sicuramente si ha la possibilità di fruire meglio dell'opera. Infatti il nostro obiettivo non è stato semplicemente creare l'app ma grazie all'interdisciplinarità della nostra azienda abbiamo messo in collaborazione i nostri storici dell'arte insieme alla dottoressa Cersoso che ha seguito i contenuti delle varie opere del Mab e abbiamo realizzato quest'opera. L'amministrazione comunale ha distribuito lungo il Mab ai commercianti degli adesivi. Avvicinando lo smartphone al codice riportato sull'adesivo il turista può scaricare l'applicazione in maniera automatica. Le descrizioni sono arricchite da fotografie delle opere del Mab ricostruite anche in 3D e l'app può anche informare sulle condizioni meteo. Prosegue la protesta dei lavoratori della Fondazione Betania Onnullus di Catanzaro, struttura che eroga servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali nell'area centrale della Calabria in forze di convenzioni con la regione. Davanti alla sede della Fondazione, un sit-in organizzato dai sindacati CGL, CISL e Will per rivendicare il pagamento degli stipendi. Sono sei le mensilità che i dipendenti di Betania avanzano dalla proprietà. Per il presidente della Fondazione Betania Onnullus Don Biagio Amato il problema ormai diventato atavico riguarda i ritardi nei pagamenti delle fatture alla Fondazione della pubblica amministrazione. Infatti dai 30-60 giorni stabilite da una norma specifica si passa agli attuali 300-320 giorni, un tempo insostenibile per le strutture dei servizi alla persona. Quindi c'è l'urgenza che finalmente la regione Calabria si assuma la responsabilità di adire a qualche gruppo bancario che dia la possibilità alle strutture di avere anticipate le fatture. Perché è un discorso vecchio e da anni che stiamo discutendo di questo. A livello regionale, proprio per non far soffrire l'economia di un territorio tra l'altro, oltre che avere la crisi dei servizi alla persona, per non far soffrire l'economia territoriale è necessario che la regione si convinca finalmente e con urgenza che deve fare, intraprendere un rapporto con qualche banca che faccia questo mestiere. Ma perché non l'ha fatto fino ad ora? Non lo sappiamo. Sappiamo che i vari tentativi sono andati tutti a vuoto. Ora ripeto, l'assessore Robbe diceva che stava per concludere forse con la banca, con banca prossima, credo comunque un ente bancario, questa operazione per quanto riguarda tutto il peso economico dei servizi socioassistenziali. Non sappiamo perché per la sanità e i servizi sociosanitari non si è arrivati fino ad ora a questa soluzione che diventa positiva per tutti, sia per le aziende sia per la stessa regione. Sì, oggi la conferenza per presentare l'incontro di venerdì prossimo alle 18 alla Sala Calipari del Consiglio regionale in via Cardinale Portanova con Raniero Lavalle. Raniero Lavalle è una persona di fama internazionale, è stato più volte parlamentare, è stato direttore dell'Avvenire d'Italia, è una persona che ha una chiarezza di esposizione e di pensiero, soprattutto sui temi della libertà e dei diritti umani, che vale la pena ascoltare. Quindi quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario della promulgazione delle famigerate leggi razziali, un'onta vergognosa sulla storia d'Italia e quindi lo abbiamo invitato per parlare con lui della Costituzione, di come la Costituzione invece italiana è tutta accenziata sui diritti umani, sulla difesa della libertà e sul principio dell'uguaglianza. A chi si rivolge specialmente in particolare questa manifestazione? Come sempre si rivolge a tutta la cittadinanza, senza differenze. Voi sapete che non abbiamo un pubblico specifico, abbiamo cittadini che devono riprendere in mano la loro vita, la loro esistenza attraverso un processo di coscientizzazione. Però questa volta Raniero Lavalle a Reggio significa anche un invito per i più giovani, ascoltare questi testimoni che hanno fatto in modo concreto, quello che sono tutti gli ideali che partono dal sacrificio di partigiani, di persone che hanno combattuto per la libertà. È ovvio che ascoltare una persona come Raniero Lavalle può essere un grandissimo balsamo di vita per tutti i nostri giovani, perché è un'occasione unica. Da Ungaretti a Pavese, dalla poesia canto alla poesia racconto. Su questo tema Pierfranco Bruni è stato l'artefice di un'apprezzata Lectio Magistralis, tenuta a Villarendano e promossa dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani e dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia. Chi ha portato il canto, la parola ritmata, questo è il canto nella poesia, nel linguaggio, rompendo alcuni schemi che erano gli schemi ottocenteschi è stato Ungaretti. Il cosiddetto ermetismo, ormai superato come semantica del termine, va a mio avviso riletto all'interno proprio del linguaggio. La musicalità significa la rottura delle rime, la rottura degli schemi, dal punto di vista della struttura del verso, o il verso breve, il verso che ha la musica già nella sua stessa parola, la parola che diventa musica. Quindi Ungaretti entra di prepotenza nel Novecento attraverso questo millumino di mezzo, ormai così famoso, ma che poi avrà le sue radici in Quasimodo, in Gatto, in tutta una tradizione che è la tradizione della poesia, canto, sostanzialmente fino a toccare la canzone d'autore. Mentre in Quasimodo c'è questa visione del ritmo, soprattutto nella prima poesia, perché dobbiamo fare riferimento a Quasimodo per passare poi chiaramente a quella poesia o a quel canto che diventa prosa. Quindi Pavese, Pavese. Noi sappiamo che soprattutto il Pavese del 1936 ci ha offerto e ci ha dato la possibilità di una poesia prosa. E Pavese recupera il senso della prosa, lo recupera dalla cultura americana. Quella cultura americana, soprattutto all'Hemingway, ha dentro di sé una poesia che diventa prosa. Per poi ritornare con Pavese ad una poesia che è la poesia, si può dire, ermetica, con Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Quindi questo passaggio all'interno del Novecento sta a significare che non esistono stagioni, ma esiste una continuità. Questo mi pare che sia un fatto significativo, un fatto importante, che deve far capire come la letteratura italiana, soprattutto quella italiana, ha una continuità che parte chiaramente dal dolce stil nuovo, ma questo dolce stil nuovo ha una sua radice ben profonda nella cultura greco-latina. Nella caserma Marafioti a Catanzaro è stato presentato il calendario storico 2019 dei Carabinieri. Il calendario storico dei Carabinieri è stato presentato per la prima volta nel 1928 e da quell'anno racconta, fotografa, descrive e tramanda anni e decenni di impegno al servizio della popolazione da parte dei Carabinieri. Il comandante provinciale Marco Pecci ed il comandante di Catanzaro Carubbia hanno illustrato alla stampa i dettagli delle raffigurazioni inserite nel calendario 2019. Il filo conduttore di questa edizione è ovviamente l'impegno dei Carabinieri sul territorio, ma coniugato alla scoperta o alla riscoperta delle bellezze incommensurabili e dei tesori del nostro paese. Il calendario rappresenta infatti un viaggio meraviglioso descritto in ogni tavola. Quello italiano è un patrimonio naturale che va difeso, tutelato e valorizzato. L'impegno delle forze dell'ordine va anche in questa direzione. Le raffigurazioni si riferiscono ai siti italiani patrimonio dell'UNESCO. Assolutamente sì. Stavamo appunto considerando il contenuto di questo calendario storico del prossimo anno ormai imminente con i suoi contenuti. Da una parte il patrimonio storico, artistico, culturale e italiano. Dall'altra parte l'arma dei Carabinieri. Due entità che rappresentano la storia della nostra identità nazionale. Due entità che rappresentano il percorso e il patrimonio non solo di tutti i cittadini, ma della nazione. Due entità che da sempre viaggiano insieme, come abbiamo visto scorrendo le pagine del calendario, a tutela di quello che dovremmo lasciare alle future generazioni, non solo italiane, ma mondiali. L'impegno dei Carabinieri coniugato alle bellezze del territorio. La sintesi del calendario è la storia dell'arma intrecciata da sempre a doppio filo con la storia d'Italia e con le bellezze naturali e artistiche del nostro paese. Sicuramente tra i reparti speciali dell'arma spicca il reparto tutela patrimonio culturale. Inevitabilmente in un paese che ha il primato dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, non poteva mancare un reparto di professionisti specializzati in questo settore, a tutela delle bellezze del paese indicato da tutti come il paese più bello del mondo. Lo spettro del racket aleggia, nuovamente in città, ancora un'altra intimidazione a Reggio Calabria e l'interrogativo a cui stanno cercando di dare risposta agli inquirenti alla luce dell'ennesimo episodio incendiario consumato ai danni di un altro locale situato in pieno centro cittadino. A pochi metri di distanza, linea d'aria dei locali che ospitano zero glutine life, devastati completamente dalle fiamme lo scorso 15 novembre, a circa un mese di distanza dall'inaugurazione. Dopo 13 giorni ci risiamo un'altra attività commerciale presa di mira dai gnoti malviventi. Si tratta del New Lady Coffee Club Cavè e Prematuro. Tuttavia parlare di racket è ciò che certo sono stati effettuati i primi rilievi ad opera dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio della pulizia di Stato con gli esperti della scientifica e volti a individuare eventuali tracce tali da risalire ai presunti autori del grave gesto. Nel corso dei sopralluoghi nell'immediatezza degli interventi è stata rinvenuta una tannica di benzina a lasciare presupporre l'origine dolosa del rogo. Nel fatto che i locali siano stati sottoposti a sequestro penale lascia prefigurare l'intenzione degli inquirenti di voler andare oltre nelle indagini e approfondire ulteriormente quanto accaduto. Nei confronti ai titolari dell'attività commerciale sono state disposte adeguate misure di vigilanza. Nel frattempo anche quest'ultima presunta intimidazione finisce al tavolo della prefettura presso la cui sede. È stata indetta per la giornata di oggi una riunione tecnica del coordinamento delle forze di polizia. Una riunione straordinaria del comitato è volta a fare il punto sulla sicurezza e l'ordine pubblico alla luce di quanto registratosi a distanza di così poco tempo in città. In attesa siano gli inquirenti a fare piena luce sia su questo così come sull'episodio delittuoso compiuto solo due settimane fa. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne avete voluto organizzare questo incontro di calcio anche per sensibilizzare in una giornata dall'importante valore e significato. Certo, abbiamo fatto questa iniziativa contro la violenza sulle donne, abbiamo proseguito l'iniziativa che abbiamo fatto all'inizio di novembre a Crotone proprio con la Katia Villirillo e adesso proseguiamo qua facendo un appello a tutte quante in questa giornata abbastanza particolare proprio sulla violenza contro le donne. Dovrebbe essere una cosa normale il fatto che non ci sia violenza sulle donne e spero che non si debbano fare partite per appunto e anche se è difficile penso che non se ne debba parlare più. Speriamo che non succeda nulla per le donne e contro le donne. Sì, grazie. Quanto meglio il calcio femminile può da questo punto di vista dare alla causa per cui oggi stanno giocando e giocano in tutta Italia, in tutta Italia per questo scopo. Io penso che si può partire anche dal calcio femminile, può dare una mano da questo punto di vista al movimento e alla causa perché ancora secondo me le strutture, le basi per far crescere questo movimento sono da migliorare. Sì, in effetti diciamo che il movimento sta cercando in ogni caso di incentivare quello che è un po' il calcio generale, nel senso che comunque il femminile in modo particolare è latita dal punto di vista un po' organizzativo, un po' delle volontà anche dal punto di vista proprio generale. Oggi è un'occasione molto importante perché è una giornata dedicata alle donne, contro il femminicidio e siccome è l'occasione anche per portare avanti questa nuova, non politica, questa sensazione di rispetto alle donne che è il motore dell'umanità. È la giornata contro la violenza sulle donne per sensibilizzare contro il femminicidio. Qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero spero che ad oggi ci siano meno situazioni proprio su questo femminicidio. Infatti oggi appunto noi ricordiamo anche questa giornata perché è una cosa molto importante. Ciò che conta oggi più che il risultato Elisabetta è il significato della giornata. Sì assolutamente, è una giornata molto importante per ricordare le migliaia di vittime che ogni anno purtroppo appunto sono vittime di questo movimento che è il femminicidio. La giornata è proprio per ricordare questo, per dire stop alla violenza sulle donne. Due straordinari mattatori, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, sul palco delle Politeama nella serata di mercoledì 28 novembre. La coppia, come è noto, ultracollaudata sulle scene, lavora insieme dagli ormai lontani anni 80 quando costituiva il trio con Anna Marchesini, a cui peraltro è stato riservato un toccante omaggio finale. Il numeroso pubblico delle Politeama ha apprezzato tantissimo le performance di Lopez e Solenghi capaci di segnare un nuovo trionfo di questa scoppiettante stagione teatrale. Certamente soddisfatti il sovrintendente Giavito Casadonte ed il direttore generale Aldo Costa che tra messe di abbonamenti e sold out a ripetizione non possono non essere felici per i brillanti risultati ottenuti. Numeri e consensi che testimoniano una volta in più, se mai ce ne fosse bisogno, l'importanza di un affaro culturale del capoluogo, qual è il Politeama. Il Catanzaro vince il recupero nel derby con la regina, valevole per la quinta giornata di Serie C che non era stato disputato per il maltempo. Predominio territoriale catanzarese, ma gli amaranto in contropiede hanno avuto le loro occasioni. In avvio Canutè per i padroni di casa si fa minaccioso, risponde Emma Usso per gli amaranto. Al tredicesimo minuto ancora il numero 7 amaranto che tira in bocca Furlan. Quindicesimo minuto Canutè atterrato al limite e punizione il Ciccone sulla barriera. Al ventesimo scambio Canutè Celiento con il difensore pericoloso, il suo tiro viene deviato in corner da Confente. Al venticinquesimo sinistro velenoso di Alvaro Iuliano che l'ammisce il palo. Risponde un minuto dopo San Domenico, destro radente, fuori specchio. Trentiquattresimo occasionissima per Ciccone, Confente super. Dall'altra parte Tiziano Tulissi spreca malamente un'azione di contropiede calciando alto. Al trentottesimo Dursi viene murato da Confente che devia in corner. Al quarantesimo ancora Super Confente sul bolide di Favalli. Finisce 0-0 all'intervallo. Secondo tempo parte in quarta il Catanzaro, al decimo sinistro di Favalli alto. Risponde Ungaro per gli Amaranto, sinistro largo. Ancora un Lampo Amaranto al quarto d'ora, corner dalla destra, deviazione volante del centrale Solini e sfera sopra la traversa. Auteri cambia l'attacco per sbloccare il punteggio. Dentro Infantino e Giannone per Dursi e Favalli. Arruola anche Nicoletti che rileva Statella. Ed ancora Derisio sostituisce Ciccone e Fischnaller prende il posto di Maita. Nella regina invece Zivkov rileva Ungaro e Bonetto entra al posto di Mauso. Aumenta fortemente la pressione del Catanzaro che ora ha forze fresche in avanti. Si ripetono cross da un fronte e dall'altro e le sgroppate di Canutetti vengono sempre meno contenute da parte di Kirwan, peraltro ammonito. Partono una serie di spioventi sia da destra che da sinistra e sui quali Infantino inizia a farsi sentire in aria. La difesa Maranto non sbanda ma è stanca e cade all'ottantatresimo quando il lancio da destra di Celietto è preda di Infantino che di testa schiaccia nell'angolino con Fente stavolta non ci arriva. E l'episodio decisivo la regina non riesce più a replicare. Il Catanzaro fa suo il derby, sale a 23 punti e conquista il quarto posto solitario. Fischiano da loro, vince il Catanzaro!